Eccoci di nuovo alla Basilica di Ribinic. Oggi abbiamo vissuto insieme con i giovani da Lombardia la messa di mandato con la presenza di tutti i nostri Vescovi Lombardi. Questa messa è stata animata dal coro di Shekinah, qui abbiamo Francesca e Veronica. Ieri Shekinah è stato chiamato a Katowice per un evento particolare. Veronica ci racconta qualcosa. Sì, ieri siamo stati nello studio televisivo, è uno studio televisivo nazionale, ci hanno chiesto chi siamo. Siamo qui appunto per le catechesi e per animare le messe e per manifestare la nostra fede attraverso il canto. Francesca invece chiediamo qualche passaggio, il messaggio che ci ha lasciato Monsignor Beschi, Vescovo di Bergamo, che ha presieduto l'Eucarestia. Allora il Vescovo ci ha ricordato che la mamma di Giacomo ha chiesto per Gesù, per i suoi figli, il posto migliore. In realtà poi Gesù ci chiede di metterci al servizio per gli altri. Quindi l'esempio dell'Apostolo Giacomo è stato proprio imitato anche da tutte le famiglie che in questi giorni ci hanno accolto e si sono messe al nostro servizio. Ecco qui lasciamo il gemellaggio, abbiamo conosciuto tante famiglie, sono nati degli affetti, degli incontri. e ora ci recheremo a Cracovia per vivere insieme con tutti i giovani del mondo le giornate d'incontro con il Papa. A presto!